Ciao, sono Antonio Beccaria e in questo video ho il piacere di guidarti alla conoscenza del nostro sistema operativo per ordini ricambi Piaggio. La nostra base operativa è Software, programma Arco. Ora ti faccio una panoramica su cosa trovi all'interno del marchio Piaggio nel catalogo figurato Software. Entriamo all'interno del catalogo. Andiamo su Piaggio, Prodotti, Catalogo Software. Nel catalogo Piaggio sono contenute le bici elettriche, i ciclomotori, tutta la parte fuoristrada MP3, tutti i vari modelli MP3, varie cilindrate, Quad Trackmaster, tutti gli scooter e maxi scooter e i veicoli stradali. Ora facciamo un ordine tramite Arco. Quindi come veicolo abbiamo un Beverly 350 ST 4 tempi del 2016. Dobbiamo ordinare un iniettore e una sonda Lambda. Perfetto. Andiamo all'interno del programma. Nella descrizione scriviamo Beverly Cilindrata 350 anno 2016. Il sistema estrae il veicolo che ci interessa. Entriamo all'interno. Cerchiamo nelle tavole l'iniettore. Sensore, ecco qua, nel corpo farfallato, uno è già pronta a consegna, e la sonda Lambda. Andiamo nella parte marmitta, eccola qua, sensore, sonda Lambda, già pronta a consegna. E il primo ordine l'abbiamo completato. Ora, di un Liberty 4 tempi, 3 valvoli, iniezione del 2014, ordiniamo un filtro olio originale, un filtro aria originale. Liberty 125 2014. Questo qua. Cerchiamo nelle tavole filtro olio. Eccolo qua. Preso. E il filtro aria. Abbiamo già qui la tavola. Eccolo qua. Il numero 3, elemento filtro aria. Ok. Abbiamo inserito nel carello i nostri articoli. Ora, andiamo a inserirli in ordine. Quindi, importiamo da catalogo. Ok. Inserimento automatico. Andiamo a scaricare tutti gli articoli. Perfetto. Elemento filtro aria. Ok. Benissimo. Abbiamo inserito nel foglio di lavoro i nostri quattro articoli, che sono già tutti pronti a consegna. Quindi l'ordine tramite programma arco è completo. Ora, ti indico come faccio l'ordine tramite portale ufficiale Piaggio. È fondamentale sempre comunicare il numero di telaio, perché con questo dato io posso risalire al veicolo esatto, soprattutto per ordinare parti verniciate, con il codice colore. Quindi, entriamo nel portale ufficiale Piaggio, inseriamo il telaio, e il sistema ci trova che è un Beverly 500 nero grafite 79, del 10 marzo 2006. Ottimo. Siamo all'interno del portale ufficiale Piaggio. Inoltriamo l'ordine, quindi devo ordinare uno scudo anteriore e un parafango anteriore. Iniziamo a prendere questi due componenti. Allora, andiamo su telaio, andiamo su scudo anteriore, eccolo qua, il numero 1. Prendiamo il codice, questo è già verniciato, lo inseriamo nel foglio di lavoro, ok, quindi questo qua l'abbiamo preso. Andiamo a prendere il parafango, eccolo qua, il numero 15, perfetto, parafango prendiamo quello già verniciato, ok. Lo inseriamo qui, perfetto, infatti il finale Napoli domodosso, la ND, è il codice colore. Benissimo. Abbiamo ordinato intanto sti due ricambi. Ora dobbiamo prendere un accessorio, un kit parabrezza medio. Allora, andiamo sempre su portale ufficiale, andiamo nella sezione accessori, ok. Una cosa molto comoda è che in questo portale l'accessorio è già dedicato al veicolo. Infatti Beverly 500 2006 2008, andiamo nella parte accessori, ecco qua. Il portale indica tutti gli accessori che sono disponibili per questo veicolo, in modo sartoriale. Andiamo sulla sezione parabrezza e cupolini. Selezioniamo parabrezza, così il sistema filtra il parabrezza medio. Benissimo. Mostra un'immagine del prodotto e indica l'applicabilità. Quindi questo parabrezza può montare su questi veicoli e fornisce anche la sezione ricambi. Questo qua è il nostro codice ordine. Lo copiamo, lo incolliamo nel sistema. Perfetto. E lo ordiniamo. Benissimo. Quindi abbiamo ordinato anche tramite portale ufficiale Piaggio. Ora ti faccio vedere come inserisco un ordine tramite il mio sito antoniobeccaria.it Ci portiamo alla pagina del mio sito, antoniobeccaria.it Entriamo nella sezione ricambi accessori in moto. All'ingresso trovi una presentazione gilpi cliccando sul logo. Hai delle informazioni molto importanti per sapere come inoltrare ordini di ricambi. Hai la sezione ricambi ed esplosio originali a tua disposizione con una serie di collegamenti per vedere varie marche. E ci portiamo alla sezione accessori originali. Infatti qua troviamo il marchio Piaggio. Cliccando all'interno della sezione possiamo andare a scaricare il catalogo. Io per guadagnare un po' di tempo l'ho già scaricato. È questo qua. Ok? Dove c'è l'indice trovi i veicoli e trovi anche la parte accessori e abbigliamento. Quindi dobbiamo andare su il nostro modello che è un Medley 150 2017 colore bianco 566 e ordinare un kit bauletto da 37 litri e un portapacchi per il bauletto. Allora ci portiamo alla nostra sezione. Qui c'è una panoramica completa di tutti gli accessori dedicati a ogni veicolo e nella parte finale c'è la sezione abbigliamento e caschi. Quindi noi dobbiamo prendere per questo veicolo qua il Piaggio Medley un bauletto da 37 litri verniciato bianco 566. Eccolo qua. Quindi molto comodamente copiamo il codice e lo incolliamo nel programma software. Quindi inserisce riga, incolla e abbiamo il nostro bauletto. Registriamo e dobbiamo prendere anche il portapacchi perché altrimenti non possiamo fissarlo. Il portapacchi è questo, supporto bauletto 37 litri. Copiamo il codice e lo incolliamo nel portale. Inserisce riga, incolliamo, registra. Perfetto, il nostro ordine è completo. Andiamo a completarlo, benissimo. Tutto quello che è pronta consegna, se lo ordini entro l'ora e 12, la consegna è stimata il giorno successivo. Il materiale da ordinare appositamente, la tempistica media sono dai 5 ai 7 giorni lavorativi. Per ordine e informazioni puoi contattarmi al mio numero diretto 3402561690 oppure meglio puoi inviarmi un'email a beccaria.antonio.gmail.com Siamo giunti al termine di questo video in cui ti ho indicato il nostro sistema operativo per ordini di ricambio originali Piaggio. Se questo video ti è piaciuto, clicca mi piace e condividilo con i tuoi colleghi professionisti del settore. Ti ringrazio moltissimo del tempo che mi hai dedicato e ti saluto caramente. Ci sentiamo presto e un abbraccio da Antonio Beccaria. Ci sentiamo presto e un abbraccio da Antonio Beccaria. Ci sentiamo presto e un abbraccio da Antonio Beccaria.